Oh ragazzi, uno del Ceseno con uno del Milan, dai, per la partita di domani, per la partita di domani. Allora, allora? Spacchiamo, spacchiamo. Bocca al lupo e basta. No, solo bocca al lupo. Ludici, lui è ludici, lui è la forte. Spacchiamo ancora, spacchiamo. No, allora cosa vi dite? Vabbè, dai, sarà una battaglia come stamattina e speriamo che... Eh, infatti io l'avevo detto che... Signore, io l'avevo detto che... Con 3.000, signore, di nuovo. Così, sono qui, sono questi che vengono. Eh, paura? No, no. Poi va bene la mandata, ma ritorna, dai. Si sa già come andrà. Va bene, va bene, allora domani immagini. Siamo in un po' di vincita, dai. Bocca al lupo. Eh, ragazzi! Eh, ragazzi! Eh, ragazzi! Eh, ragazzi! Siamo in un po' di vincita. Tipo... Chi ha perso.